Vacanza hollywoodiana per tre truffatori a Siracusa denunciati. Vacanze siracusane per tre truffatori che a un certo tratto sono stati scoperti dal loro marchigegno di utilizzare una carta di credito rubata. Agenti in servizio alle volante della questore di Siracusa sono intervenuti in una nota struttura alberghiera di Siracusa poiché un uomo residente all'estero aveva contattato la reception dell'hotel per denunciare che dalla carta di credito in suo possesso era stata debitata una spesa di oltre 700 euro per un soggiorno di tre persone a seguito di una prenotazione su un noto portale. L'immediato intervento degli agenti permetteva di acclarare che i tre soggetti identificati per un 35enne originale della provincia di Napoli, un 28enne e un 48enne entrambi siracusani non solo erano soggiornanti all'interno della struttura ma stavano ancora fruendo dei servizi dell'hotel, spa compresa. Uno dei tre veniva trovato in possesso di svariate carte banco ma carte di credito delle quali non giustificava il possesso oltre ad alcuni documenti contraffatti e un'agenda contenente nominative di soggetti anche residenti all'estero con associato per ognuno di essi il codice completo della carta di credito, proprio uno dei nominativi rinvenuti era stato quello che era stato utilizzato per prenotare e pagare il soggiorno presso la struttura sopra citata. I tre uomini venivano denunciati per indebito all'utilizzo di carta di credito e tentata truffa e uno dei tre veniva denunciato anche per falso materiale e ricettazione, inoltre segnalata l'autorità amministrativa per possesso di una modica quantità di sostanza sconfacente e per esso è stato avviato l'iter per il divieto del ritorno nel comune di Siracusa. I tre hanno lasciato la struttura alberghiera nel pomeriggio di ieri e sono in corso ulteriore certamente sulle carte di pagamento e sui dati rinvenuti nell'agenda di come i tre siano venuti in possesso dei codici e se qualcuno dei soggetti presenti in agenda abbia potuto cedere a qualche forma di pressione per riferire i propri dati personali e consentire agli indebiti prelievi.